E invece la persona, come dicevo prima, cioè questa forza della sinistra di intervenire in quel processo di liberazione, di essere lo strumento di questo processo di liberazione delle persone affinché le persone riacquistino pienamente la loro espressione di vita. Perché in fondo non vedo niente di più bello, di più nobile della politica che fare questa cooperazione e farla per se stessi e farla per chi ti sta vicino. Ognuno, io lo ripeto sempre, sia malato o sano, sia bello o brutto, sia intelligente o perfetto, ha delle cose dentro che ha diritto nel suo tragitto di vita di esprimere.